Dopo il monumento al vocabolario e il francobollo in onore dei cento anni dello stesso, l'associazione Motus presenta anche il bando della quindicesima edizione del premio letterario dedicato al filologo cerignolano. Quest'anno vogliamo celebrare le parole e la letteratura con il loro potere comunicativo. Per questo abbiamo intitolato questa quindicesima edizione La comunicazione tra vecchie e nuove forme e abbiamo deciso di limitare le categorie alla poesia e alla narrativa. Gara aperta dunque fino al 30 aprile 2023 a studenti e adulti che vorranno presentare poesie inedite e per gli scrittori che vorranno sottoporre al baglio della giuria i propri libri pubblicati e dotati di ISBN. Anche quest'anno si terrà conto e si premierà quel libro che, seppur fuori concorso, nell'anno si mostrerà meritevole di attenzione. Resta anche la sezione Non Omnia Possumus Omnes, con la quale l'associazione Motus vuole dare riconoscimento a coloro che, col proprio operato, si distinguono sul territorio. A questa sezione è possibile autocandidarsi o segnalare qualcuno. Tutte le informazioni per la partecipazione sono reperibili sul sito del premio www.ilpremiozingarelli.it